carissimi amici di facebook voglio dirvelo sotto voce ve lo voglio dire in tono silenzioso con molta calma con estrema calma ripeto voglio fare un video a toni bassi voglio usare una voce bassa per dire oggi 25 gennaio forza lazio la lazio ha vinto lo scudetto l'ha deciso paolini non mi interessa non mi interessano gli altri pronostici la lazio vincerà il derby con la roma la lazio vincerà anzi ha già vinto lo scudetto perché ha già vinto con la juve e vi do anche un risultato sul risultato non posso essere come sono certo dello scudetto che oggi da lazio vinto e che paolini l'ha deciso oggi 1 a 5 il risultato di domani del derby un saluto a fabrizio padania del storico giornalista del corriere dello sport che ha scritto un articolo molto interessante lazio occhio al 12 vale lo scudetto fabrizio padania hai ragione ma mentre tu hai scritto un articolo dove ovviamente si parla del 12 da scudetto concludo ma ripeto a toni bassi perché è giusto fare anche ogni tanto un video a toni bassi un video sereno nel quale paolini non vi dà ripeto la possibilità ma vi do la certezza forza lazio forza lazio Nooooooooooo!